il testamento interpretato da esopo esopo se di lui si conta il vero valea da sol per senno quanto l'areopago tutto intero anzi quanto l'oragolo d'apolline come si può veder da questa strana istoria che al mio lettor non deve dispiacere un certo uomo di grecia a tre figliole fu padre infelice d'indole pazza e fra di lor diversa l'una vara secondo che si dice civetta l'altra e l'altra ubriacona quando l'ultimo fiato il vecchio rese fra lor divisi ne que parti il suo con le norme vigenti del paese ma pose un codicillo al testamento non troppo chiaro ossia che poi dovesse alla madre pagar tanto per cento il dì che non avesse più ciascuna la sua parte speciale di fortuna a tutti parve un caso sibillino come pagar potevano quel giorno che più non possedessero un quattrino non men da adesso non pareva allora un buon sistema di pagare i debiti quando si sente d'essere in malora si porta al tribunale la questione si sentono gli avvocati ma voltala e rivoltala e si buia la cosa che i dottori imbarazzati gettan la toga per disperazione consigliando a ciascuna di dividere il loro senza più per la parte che poi spetta la vedova a mo' di transazione ecco ciò che da lor trovato fu convengano le parti contribuire per un terzo al debito pagabile secondo un dato termine oppur si stabilisca un anno a rendita dalla morte del padre il decorribile da pagarsi alla madre in rate eccetera così ben stabilito si fecero tre lotti come segue primo lotto di ville di campagna e luoghi di cuccagna con chioschi in ben guarniti e con cantine piene di malvasia vasi piatti bicchieri argenteria o per dirla in un'ultima parola tutto ciò che può far gola la gola secondo lotto case di città mobili ricchi d'or superfluità cosuccerare di galanteria e unuchi belle schiave abili e destre in ricamar in pettinar maestre e terzo lotto infine campi vigne cascine gente bestie da dire da fatica e inutile che io dica che fatta questa bella divisione senza tentare il gioco della sorte secondo il gusto ognuna delle tre prende la parte che conviene a sé i dotti e gli ignoranti trovarono la sentenza ben pensata ma esopo dimostrò che tutti quanti avevano preso una mezza cantonata se il morto fosse vivo e gli dicea questo popol che passa per sì fino e acuto di natura farebbe una ben misera figura che mai non si erano viste tanto male interpretate l'ultima intenzione di un padre da un solenne tribunale esso poi il gran gobetto in base alle suddette divisioni ad ogni figlia volle e per dispetto dare la parte all'indole contraria ossia fiaschi e cantine e tazzi alla civetta alla bevone campi e le cascine e cappelline e cuffie alla sorella della mano stretta dicendo il sabio frigio che con l'usar quest'arte le donne erano spinte per far danari o per trovare marito a sbarazzarsi della loro parte così di loro ciascuna venduta la sua parte di fortuna avria dovuto per il paterno scritto pagare sul momento la madre e far compiuto il testamento stupirono tutti quanti che un uomo tal avesse più talento di tutti insieme i dotti e gli ignoranti fine della favola il testamento interpretato da esopo fine del libro secondo questa registrazione è di dominio pubblico grazie a tutti